bella a tutti ragazzi a tavirco e bentornati su gameplay channel e su price on architect allora amici io ho fatto qualcosina ho sistemato un po qualcosina off camera di quello che mi avevate detto mi ero scordato di collegare alcuni bagni alcuni cessi come avete scritto da qualche parte che non mi ricordo neanche più quali erano comunque ce n'era qualcuno da collegare ho sistemato c'era anche qualche muro che mi era venuto un po doppio quando avevo fatto il copy incolla di alcune celle quindi vabbè anche quello l'ho sistemato vedo che qua un po scuro quindi magari gli metterei una luce in queste celle non so perché sinceramente non me l'abbia messo in automatico però vabbè poco importa gliele metto io e allora ragazzi una bella novità perché andiamo qua nel braccio della morte come vedete da dan ci è arrivato un bel detenuto detenuto condannato a morte tra l'altro ho dovuto fare una nuova centrale elettrica perché perché avevo provato cliccando sulla sedia elettrica mi erano venute fuori le varie opzioni c'era accendi avevo provato accenderla e c'è stato un altro blackout perché chiaramente accendendo la sedia elettrica consumiamo un botto di corrente e quindi non me la reggeva né questa centrale né tantomeno quell'altra per cui ne ho fatta una nuova che è questa qua vedete che ce la fa anche di colore diverso a cui appunto collegato la sedia elettrica e poi ho collegato vabbè questo blocco qua diciamo tutti gli uffici sono collegati con questa centrale e il blocco diciamo così dei dei visitatori vedo che comunque nonostante se è condannato a morte io qua sinceramente non ho visto in realtà dove è segnato quando deve essere condannato a morte qua c'è scritto condannato a 25 anni però in realtà è nel braccio della morte quindi io non so come devo fare per intanto lo perquisiamo come devo fare appunto per condannarlo a morte perché anche qua nelle varie opzioni non c'è non so se poi appunto avviene in automatico probabilità di grazia 41 per cento a programma esecuzione e se oddio esecuzione va bene lo vai lo secchiamo ragazzi lo secchiamo basta rinchiudi in cella tutti i detenuti autorizza e autorizza perché il condannato non è in grado di compri il percorso dalla cella alla sala esecuzioni perché non si è in grado prova sedia elettrica ah non è in grado ma perché perché chiusa la porta scusami no non credo che sia per quello vediamo se esce il test finale allora accendi vediamo un po' si adesso così dovrebbe essere accesa si perché se la spengo esatto autorizza a forse devo aspettare che si completi questo il condannato è in grado di compiere il percorso dalla cella alla sala esecuzione non so per via delle porte o che cosa però proviamo ad aprirgliele tutte e vediamo se mi sparisce quell'errore no mi dà sempre questo esecuzione iniziata completato vediamo appena si completa diciamo il fatto di rinchiudere in cella tutti i detenuti questo mamma sentite anche la musica come come cazzuta cura tutti i dettagli dell'esecuzione scorte testimonio scorte detenuto alla struttura ok ma è lo scorte in automatico segui caccia chiudi non so cosa devo fare io sinceramente segui mostra fiducia penale perquisisci boh ovviamente non lo so io cosa che devo fare proviamo ad accenderla vediamo se così funziona tutti i detenuti devono essere chiusi in cella ovviamente nel momento dell'esecuzione provo ad andare avanti un po' veloce 96% completato ok autorizza però non mi fa provare la sedia elettrica non so perché accendi si controlla che se riceva corrente viene planificato il percorso del detenuto che deve essere in grado di dirigersi da solo nella stanza delle esecuzioni e ma ci può andare qual è il tuo problema scusa perché non puoi uscire fammi capire non so perché allora ragazzi facciamo un attimo a nulla non so se ci sia qualche ah è vero c'è ragione che pirla perché devo fare il corridoio condiviso perché se no non ci può andare ok infatti mi pareva va bene va bene allora programma esecuzione vai autorizza e autorizza ok prova sedia elettrica la stanno provando e adesso sì che si va con l'esecuzione ragazzi si dovete assicurarvi di non aver bloccato alcune zone perché se no il corridoio l'avevo messo riservato alla media sicurezza e quindi cura tutti i dettagli dell'esecuzione autorizza il guardiano e il direttore si recano nella cella del detenuto condannato anche un prete un leader spirituale di scelta del prigioniero arriva per il visitatore il prigioniero nella sua cella e per recitare le ultime preghiere mamma mia ragazzi la nostra prima esecuzione esecuzione porca miseria scorta il detenuto esecuzione rapporto finale ok dobbiamo fare proprio tutti i passaggi tutti i passaggi uno per uno avviciniamoci un po' questa è la guida credo spirituale allora no se riusciamo ad... ah no arriva la guardia ok perfetto no volevo seguire appunto il prete eccolo qua che arriva non so se il direttore sia già andato dentro il guardiano e il direttore ok ah nella cella del detenuto condannato ok quindi vanno tutti nella cella questo sarà gameplay epico ragazzi la nostra prima esecuzione su prison architect mamma mia questa musica molto inquietante ok qua sono arrivati all'esecuzione apriamogli vabbè c'era lì la guardia per cui e ovviamente si va a sedere immagino ah no va dal prigioniero ok il direttore c'è già guardatelo direttore il comandante delle guardie mamma mia scorta i testimoni alla struttura vai scortiamoli ah quindi abbiamo anche dei testimoni addirittura i testimoni giungono presso la prigione e vengono condotti nella sala delle esecuzioni tra di loro possono esservi familiari sia del condannato che della vittima ricorda di fornire ai testimoni delle sedie e quella ovviamente ce l'abbiamo anche perché questo tizio qua praticamente avevo visto la fedina penale aveva fatto un bel po' di omicidi testimone di esecuzione il prete 68 anni mamma mia vediamo ok qua i nostri testimoni adesso li porteranno nella cella che spettacolo ragazzi va bene dai andiamo avanti un po' veloce ah più di così tanto non possiamo durante l'esecuzione ok non possiamo mettere la velocità massima possiamo solo velocizzarla leggermente guardate qua tutti i testimoni guardate qua che arrivano la prima credo che sia la madre penso siano sì tutti i parenti immagino i familiari o magari i familiari non so adesso se del detenuto o della vittima ok adesso andrà la guardia ad aprire eccoli qua ecco qua i testimoni che si siedono scorta il detenuto alla struttura andiamo cruce andiamo mamma mia sentite la musica che spettacolo ragazzi è la mia prima prima esecuzione ed è uno spettacolo mi spiace per il detenuto però avevo visto prima la fedina penale ragazzi ha fatto un botto di guardate qua eh omicidio rapina mano armata aggressione aggravata lesioni personali gravi lesioni personali gravi tentato omicidio cioè tutti dichiarazioni colpevole per cui ragazzi penso che la sedia elettrica se la meriti siete pronti? devo premere ragazzi devo farlo lo faccio no vabbè facciamo nulla no scherzo pronti 3 2 1 le tue ultime parole crunch non lo fate non lo fate si lo faccio lo faccio ah 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 vai basta ah è stata proprio una roba pensavo scintille pensavo facesse chissà che cosa ok l'abbiamo seccato l'abbiamo seccato di brutto mamma mia che storia l'esecuzione ragazzi il rapporto finale viene compilato un rapporto in cui viene giudicato il tuo operato l'esecuzione è detenuta nel cruce tramite sedia elettrica è stata eseguita come previsto eh fermati ok ehm alle ore 5.09 in presenza dei testimoni l'istituzione essendosi occupata a eseguire la sentenza riceve un compenso pari a 10.000 bene bene abbiamo anche fatto 10.000 ovviamente portano via il cadavere e lo porteranno all'obitorio che spettacolo ragazzi mamma mia c'ho la pelle d'oca abbiamo fatto la nostra prima esecuzione ed è stato veramente veramente da brivido porcaccia la miseria che spettacolo vai rimettiamo a posto tutte le porte dunque poi allora dopo questo momento molto per me è stato davvero ragazzi emozionante si come è morto uno oggi ma dove ma ah ne è morto un altro porcaccia la miseria ho ucciso in quanto spia eh cacchio è un casino perché dovrei fare effettivamente quelli sotto custodia il problema è che sotto custodia dovrei fare tutta la zona per loro e potrei farla ragazzi perché ce ne stanno morendo parecchi eh me ne era morto un altro anche off camera abbiamo 9 detenuti morti un po' le risse un po' eh quelli che appunto uccidono così è un bel problema ragazzi è veramente un bel problema per cui sinceramente impavido dovremmo guardare appunto tutti quelli diciamo che sono che sono in pericolo quindi spie ex poliziotti qua vediamo se c'è qualcuno spione ecco tipo questo ad esempio ah infatti è quello morto ok e appunto quello morto che cavolo è che c'hai qua ah no è estremamente stanco ok qua portano via tutti i cadaveri eh si purtroppo è è un po' un casino allora qua adesso di altri spioni non ne vedo potrebbe potrebbe non essere male sinceramente andare a fare una una zona potenziale informatore e come faccio io a metterlo come informatore scusami perquisisci mo sta fedina penale allora qua ah assume informatore assumiamolo ah dai proviamo anche questo per assumere l'informatore in modo che magari ci da una mano eh non sai cacchio state combinando madoncina eh qua se menano sempre di brutto a posto ok ho messo anche un po' di servomeccanismi per le porte quindi in modo da rendere le guardie molto molto più libere le ho messe un po' un po' dappertutto eh ragazzi sinceramente ho messo eh ne ho messe un casino di queste di queste cose qua eh scorta detenuto qui dormitorio ok adesso che l'abbiamo assunto come spione non so in realtà se posso fare qualcosa o meno ritorniamo sull'intelligence informatori mi da lui ok copertura sospetto stato non attivo eh attiva in arrivo ah ok va bene va bene ok eh sì qua dobbiamo stare attenti a a non farlo sgamare perché sennò ovviamente gli altri detenuti lo legnano come non mai tra l'altro vediamo anche le gang perché credo che si siano eh infatti vedi si sono formate anche delle gang 4 membri 2 membri e 3 membri eh quindi abbiamo qua le zone della della gang dove dove operano questi qua 2 membri 0 uccisioni 4 membri 2 uccisioni che sono queste qua in rosso ok e bisognerà stare attenti allora ragazzi dato che ci siamo io comunque faccio una bella perquisizione generale perché comunque come si sa ogni tanto assolutamente ci vuole poi adesso insomma abbiamo avuto anche quell'esecuzione lì per cui ci sono state un po' di risse i bisogni in realtà sono abbastanza a posto ah ecco tra l'altro ho tolto quello che avevo attivato che appunto per realtà non ci avevo fatto caso il programma il ricorso del braccio della morte praticamente dovrebbe essere quello che fa sì diciamo che salva il detenuto dall'esecuzione in teoria se non ho capito male l'altra volta l'avevo attivato che ancora detenuti non ne avevo a questo non gliel'ho fatto perché vabbè gli abbiamo fatto alla fine l'esecuzione quindi è andata così vedremo se con i prossimi arrivi ci sarà qualche altro detenuto condannato a morte ed eventualmente appunto vedremo di magari fargli fare il corso anche proprio per provare perché anche questo non sarebbe male quindi attenderemo il prossimo detenuto condannato a morte e poi appunto decideremo un po' che cosa fare e dunque dunque avevo messo poi mi sembra quello di averlo fatto anche off camera avevo collegato le cimici e i telefoni di tutti i telefoni che avevo aggiunto quindi anche di questa sala comune per cui sono tutti collegati avevo messo a punto come detto un po' di apertura automatica delle porte così da insomma sollevare un po' le guardie dal lavoro e da averne almeno di più disponibili e a livello di bisogni ecco una cosa che volevo guardare è sempre un po' la famiglia che in questo caso la ricreazione ma comunque adesso la sala comune ce l'hanno per cui non dovrebbe essere un problema la famiglia invece è un po' più problematica in modo migliore per accontentarle aggiungere dei telefoni alla tua prigione e l'ho fatto una struttura per le visite e l'ho fatto in realtà ne abbiamo due e abbiamo anche al reparto abbiamo anche il reparto di posta quindi in realtà ragazzi in teoria si vedete quale visite la sala visite la utilizzano è anche bella grossa per cui ne abbiamo due sale visite piuttosto vabbè questa è piccolina ma quest'altra è molto grossa abbiamo i telefoni perché qua nella sala comune nelle due sale comuni li ho riempiti di telefoni per cui io non credo che sia così problematico forse il problema è dato dal fatto che in realtà la sala comune vabbè però la sala comune si potrebbe essere più che altro per la ricreazione perché stavo guardando che sala comune questa la devono condividere sia quelli di sicurezza minima che quella di sicurezza media quelli di sicurezza massima hanno la loro però vabbè in realtà anche comunque la sala comune qua si oddio è abbastanza frequentata però insomma non so ne anch'io potrei magari provare ad aggiungergli anche qualche altro telefono qua visto che comunque li utilizzano non so se riescono per via del tavolo da biliardo magari ne mettiamo un altro qua e ne potrei mettere magari un altro qua vai mettiamo un altro paio di telefoni potrei anche metterlo qua in realtà si dai mettiamolo un altro lì così abbiamo tre telefoni in più e vediamo se magari riusciamo a far scendere un po' il bisogno della famiglia che comunque i detenuti hanno allora diamo un'occhiata i tunnel se per caso ste carogne mi hanno scavato qualche tunnel ma sembra di no ragazzi ma non ho fatto caso alle varie icone che comparivano ma tunnel per il momento non ne vedo vedo telefoni varie cose vari oggetti illegali ma di tunnel francamente non ne vedo in teoria dovremmo dovremmo essere a posto si dovremmo essere a posto allora dai uscite di qua vai ok si in teoria in teoria dovremmo esserci ragazzi allora qua per il momento potrei anche comunque lasciarle aperte perché tanto non c'è nessuno queste porte qua le lasciamo aperte non le ho collegate al sistema diciamo automatico delle porte queste due perché essendo quelle del braccio della morte sinceramente non mi sembra un po' sprecato mi avete poi consigliato di fare al posto della recensione il muro diciamo quello perimetrale lo volevo fare all'inizio ragazzi vi ricordate nello scorso gameplay il problema è che come vedete il muro perimetrale cioè guardate quanto ci costa far tutto il muro tra l'altro questo è anche elettrificato quindi sì effettivamente ci darebbe sicuramente una protezione molto più forte quello è sicuro il problema è che appunto ci costa veramente veramente uno sbotto quindi magari più avanti tanto abbiamo visto che i soldi ne stiamo guadagnando parecchi quando ne avrò accumulate ancora un pochetto anche perché dobbiamo fare tutto il muro qua e tutto il muro qua e quindi è una bella una bella botta per cui vediamo insomma magari man mano che andiamo avanti potrei iniziare a farglielo costruire quello sì assolutamente potremmo anche iniziare a farglielo costruire glielo potrei anche mettere attaccato a quello se no no mettiamoglielo no mettiamoglielo attaccato va ragazzi così risparmi un po' di spazio però e cioè guardate quanto ci costa far solo questo lato qua spendo 26.550 vabbè io intanto inizio a farglielo fare e poi si vedrà insomma anche perché l'idea è comunque quella di sfruttare tutta la mappa per farla a prigione quindi poi a bordo mappa ci saranno i muri delle strutture per cui non so neanche se fermarmi prima o meno però vabbè quello poi eventualmente lo valuteremo in un secondo momento allora qua ovviamente il muro non me lo fa mettere niente per il momento lo mettiamo lì e potrei magari potrei potrei iniziare magari anche a metterlo qua dai ok così almeno facciamo un paio di lati e siamo e siamo a posto vediamo se riesco a fare anche questo ma ho idea di no allora qua tra l'altro c'è la la torre del cecchino quindi io potrei anche fare così fare così intanto che gli metto aspetta non vedo un cacchio così ok fai così fai così e basta e magari gli mettiamo qua una bella porta personale così almeno il cecchino può uscire vai così almeno abbiamo fatto qua la protezione anche per la torre del cecchino va bene stanno ancora finendo la perquisizione tunnel comunque non mi pare che ce ne siano guardate quanta cavolo di roba che hanno trovato porca caccia la miseria e farei eventualmente magari anche nel prossimo gameplay una zona o la possiamo anche iniziare adesso per una zona per quelle appunto sotto protezione perché secondo me è il caso di farla potrei anche magari farla qua fare un piccolo dormitorio anzi magari quello lo possiamo anche già fare sinceramente qua gli avevo fatto costruire il muro scusami no qua no ok per cui possiamo andare a fare una costruzione in cemento la facciamo magari solo che il problema è che lì c'è il cacchio di boiler che palle allora facciamo una roba facciamola da qua così lì comunque gli lasciamo il corridoio e insieme il boiler il boiler comunque lo devo spostare e stavo pensando a dove metterlo vabbè dopo comunque nel caso ci pensiamo allora oggetti direi di fare una porta a prigione ma si va facciamo la grande dai facciamo una porta a prigione ok che cavolo mi hai fatto mi hai tolto la fondamenta ok vai farla così perfetto qua andiamo a mettere un muro di calcestruzzo al posto di quella qua gli andiamo a mettere la strada ok qua demoliamo questa parete ok smantelliamo un attimo il boiler qua gli avevo messo il riscaldamento ragazzi visto che il detenuto ce l'avevamo il riscaldamento comunque gli avevo messo ed è per quello che avevo messo lì il boiler perché purtroppo l'acqua calda non ce la faceva ad arrivare quindi potrei far così potrei smantellare questo radiatore ma è un po' veloce almeno facciamo questi lavori qua e il boiler a sto punto glielo vado a fare qua così abbiamo solo un termosifone e il boiler che tanto scalderà tutta tutta la zona ok adesso il livello di pericolo è molto basso anche se la famiglia è un po' scesa però è comunque sempre piuttosto altina eventualmente vediamo cercherò di fare magari un'altra sala comune con più telefoni o magari anche un'altra stanza della posta perché no potrebbe anche essere quello il problema quindi potremmo anche magari fare così allora ok qua il muro perimetrale me l'hanno fatto perfetto si me l'hanno fatto fino in fondo lo stanno finendo ok qua mi stanno costruendo questo e va bene dopodichè gli andremo poi a mettere un altro boiler qua va bene aspettiamo facciamoglielo smantellare ok fermati lì allora ho bisogno del muro in calcestruzzo che mi deve andare a mettere qua va bene ho bisogno del cavo elettrico che me lo deve andare a mettere si vabbè 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 allora ci manca ci manca appunto il boiler che a questo punto me lo vado a posizionare qua e gli faccio arrivare ovviamente la corrente che se no non funziona fino a qua va bene li stanno teserando che una bellezza ragazzi mamma mia Mamma mia che macello No, come due morti Ma che cacchio sta succedendo qua Aspetta, fermati Fermati Fermati, fermati Allora, allora Ok, adesso mo mi avete rotto le palle Emergenze Polizia antisommossa Vai Ok Eh, no, adesso mo mi avete rotto le scatole Ragazzi Arriva la polizia antisommossa Ma vi legna tutti quanti Vai, vai lì Vai lì Ok E vai là, va bene Poi non so se io comunque la polizia antisommossa La pago Cioè continuo a pagarla oppure no Adesso non lo so 10 morti, detenuti ragazzi Una strage Però del resto In realtà adesso Non è che ci sia Un pericolo così esagerato È quello che io non riesco a capire Come mai alla fine Perché hanno bisogno di sonno Ma perché non vanno a dormire È quello che io non riesco a capire Scusami Eh Regime Eh, perché hanno due ore Va bene Ma lo recuperano un po' il sonno No Posso magari farli dormire di più Non ne ho idea Potrei magari mettere la doccia La mettiamo qua Ok Il pasto lo mettiamo qua E gli diamo un'ora di sonno in più A sto punto Facciamo svegliare magari alle 7 Che dormono dalle 10 alle 7 E del resto la doccia Ce l'hanno bisogno Del tempo libero Anche Eh Se no potrei provare a tirargli via Magari il tempo libero Ok Il cortile Glielo mettiamo qua Va bene Eh Gli mettiamo anche solo un'ora Di Sì dai Mettiamogli solo un'ora Facciamo Tempo libero Tempo libero Qua facciamo doccia Tiriamo un po' su tutto No Doccia doccia Facciamo Pasto E pasto E a questo punto Il sonno lo anticipiamo Alle 9 Di modo che dormano Dalle 9 alle 6 Per cui gli diamo Due ore di sonno in più Magari per quello ragazzi Eh Perché Al momento i bisogni E il sonno che è Alle stelle Quindi Proviamo quello Adesso stanno andando In In cella Non ho capito se poi però Questi poliziotti Li continuano a pagare o no Vabbè Tiriamoli via Tanto a sto punto Non ci servono più Allora Cosa stavo facendo Stavo facendo la storia qua Ok Allora fai chiusa Non a chiave Perché se no Stiamo qua fino a domani Ok ok Materiali Muro in calcestruzzo Andiamo avanti col muro Fino a qua Va bene Va bene Portatemi la corrente Che non si vede Una fava di nulla Vai Montami il boiler Eh Ah già Gli devo mettere però L'acqua Giustamente Perché se no Ok Vai Mettiamogli l'acqua E direi che così Dovremmo essere Abbastanza A posto Ragazzi Così questa zona qua Praticamente farò Un piccolo dormitorio Per Diciamo Quelli sotto Protezione Potrei fargli Dormitorio Con qualche bagno E Dovrei fargli anche Cucina Mensa Cavole Che devo fargli tutto Perché se no Non hanno niente Eh però Mi sa che per forza Se no Se no Non riesco Allora Vediamo le stanze Vediamo quelle Aspetta Allora Proviamo a fare una cosa Ragazzi Volevo vedere Un attimo Le stanze Magari C'è la condivisa E che questa qua È molto Molto Grossa Due Però Mi ci stanno Sei Sei persone E non sarebbe male Però effettivamente Potrei anche Magari farlo Proviamola Dai Allora Proviamo a farla così E vediamo Se me la fanno Vediamo come me la fanno Più che altro Ragazzi Perché questo Me l'hai portato Nel braccio della morte Scusami Aspetta un po' Perché No Allora Questo deve comunque Rimanere solo Braccio della morte Abbi pazienza Dai Vallo a tirar via Su Che cacchio Stai facendo Ok Dai dai Portalo via Ecco bravo Che non deve stare lì Ok Ok Allora Andiamo un attimo Vediamo a vedere Se il resto È tutto a posto Va bene Nessun accesso Ma gliel'ho messa Io la porta Adesso andiamo a controllare Va Anche qua Vedete Non so perché Mi toglierà La media sicurezza Da qua Non riesco io a capirlo Vabbè Tutto il resto Lo lasciamo Ovviamente libero Va bene Allora Solo personale In sicurezza L'ufficio L'avvocato No Perché serve Per fare i corsi E tutto il resto Direi che va Va bene Così Ok Ok Allora Qua però Mi stai facendo I muri così Che io non li voglio Io voglio Il muro in calcestruzzo Quindi te li vado a fare io Vai E vai Dai Dai Ok Poi No Non voglio il lavoratore Voglio il bagno Ma me lo stai montando adesso Vabbè Non lo volevo qua Lo volevo spostare Mettiamolo qua dietro al muro Perché se no Metterlo Proprio davanti Ah no Vabbè che dietro No niente niente Lascialo lì Lascialo lì Tanto c'è qua il muro La porta è spostata Quindi va benissimo lì Perfetto Perfetto Allora Allora Dunque Dunque L'acqua Mi dovete dare l'acqua Quindi andiamogli a mettere Facciamo così Il tubo grande Lo andiamo a mettere così Lo prolunghiamo E qua Gli andiamo a mettere il tubo piccolo Vai Perfetto Così qua Il dormitorio L'ha fatto Ovviamente Nel dormitorio Adesso Questa parte qua Di prigione La andremo a riservare Alla Protezione A quelli sotto protezione Quindi Quindi andiamo a vedere Chi sono gli informatori Ok Tu sei un informatore Va bene Per cui Tu che sei un informatore Ti mettiamo Custodia cautelare Ok Penso che come informatore Comunque vada bene Metterlo sotto custodia cautelare Giusto? Credo di sì Qua non so se poi appunto Lo devo attivare o cosa Ah perché quando lo attiviamo Lui va a parlare Va a fare Con i carcerati Ah ok M'ho capito Penso che faccia una cosa di questo tipo Quando lo attiviamo Va A fare Diciamo una cosa Quindi mi sa che allora Non lo devo No l'informatore Però aspettate ragazzi Perché credo di non doverlo Mettere sotto custodia Cautelare Perché se no Giustamente non può fare L'informatore Quindi mettiamolo Torniamolo in sicurezza minima Dai Lasciamo stare Lo lasciamo in sicurezza minima Dove lo stai a portare? Scorta è tenuto qui Sicurezza No vabbè Ma te l'ho tolta la sicurezza Vabbè Niente Me lo porterà lì E me lo riporterà indietro Nessun problema Vediamo come intelligence Se 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 c'è qualcun altro Oltro a rischio Stoico Mentalmente Forte Abile Picchiatore Impavido Stoico Istigatore Letale Duro Instabile Che cavolo ci fai te qua? Attiva? Ah ok Non attivo No attiva Attiva Ah ok Andrà lì a parlare Penso con le guardie Credo no? Si mi sa che va lì a parlare Con le guardie Va bene Va bene Gli altri però Non me li fa vedere Ah spione Spione Aspetta 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 Fermati 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 Chi è che è spione? Condannato Ma che cavolo Di rumori sono Che cacchio di rumori Pertanto perché non riesco a Vedere chi è lo spione Di questi qua Spione Ex poliziotto Ah no Aspetta Dovrebbe essere Credo questo Credo eh Personaggio Spione Ex guarda Carceraria Ok lui assolutamente Custodia cautelare Ok Va bene Ce n'era un altro Di spione Ce ne sono parecchi altri In realtà Allora c'è questo Che dovrebbe essere Spione Vediamo un po' Condannato Spione Ex poliziotto Ex poliziotto Ragazzi Assolutamente Custodia cautelare Ok Dovrebbe essercene Anche un altro Che dovrebbe essere Questo qua Vediamo Qua c'è tutta la sua storia Spione Un altro informatore La tua vita Può essere in pericolo Ok Per cui Assolutamente Anche tu vai Nella custodia Cautelare Va bene Va bene Ok Credo che non ce ne siano altri Spione Spione Eccolo qua Eccolo qua Fermati Fermati Chi sei Chi sei Sei tu Credo Vediamo Sonato a 12 anni No Non è lui Ok aspettate Fatemi Che cavolo stai facendo Informatore Eh quindi Va bene Ok dai Mettemolo non attivo Vediamo dove che va Allora Vediamo qua Che c'era un altro Spione Dove cacchio è andato Stavo uscendo di qua Eccolo Ah ok Questo qua Ok L'ho preso Spione Perfetto Sicurezza minima Custodia cautelare Vai Dovremmo avere peraltro 4 giusto Se non Se non mi ricordo male Allora Spione Spione 1 2 3 4 Perfetto Abbiamo giusto Giusto 4 posti letti Posti letto Ok E fin qua Va bene Ehm Cosa che vuoi? Allora Chiusa una chiave Perché non ti va bene Scusa Vai Decele Non ho capito cos'è che Non gli piace Di questa cosa Sinceramente Non l'ho capito Chiusa chiave Come la chiudi Così Così è giusto No? Così dovrebbe essere giusto Ehm Boh Provo a togliergli La stanza dormitorio E rimettergliela su E vediamo un po' Ehm Dormitorio 2 per 3 Chiuso Interno Letto Gabinetto 2 per 3 Ce l'hanno 4 per 3 Cosa Cosa non ti piace? Chiuso Circondato da porte e pareti Allora Chiusa una chiave Porta aperta E Porta prigione Mi devi dare Vediamo Ma che palle Con questo operaio davanti Porta prigione Ok Teniamo la normale Eh Stanza 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 Però il problema è che Non me lo dà Né così Né così Mi dice che Tipo non ha l'accesso Ma perché no? Però vedo che ce li portano Boh O li lasciano qui No Mi sa che li portano in cella Infatti Vedo che ce li portano in cella Non so perché mi dà questa cosa Ehm Boh Sinceramente Non so perché mi dà questa roba qua Però vedo che comunque ce li portano Per cui dovrebbe Dovrebbe funzionare ragazzi Eh A questo punto io farei Tutto Tanto vabbè Più di quattro Non credo che ce ne siano Quindi per il momento Faccio una stanza Praticamente Multifunzione Diciamo così Eh Con tutto quanto dentro Per cui ci voglio mettere Poi anche Ehm Diciamo La mensa La cucina E tutte queste cose qua Sì questa è assolutamente Troppo grossa Quindi la farò poi io A mano Eh Tanto dovremmo comunque riuscire Sì qua non mi chiede nessuna Misura minima E qua Neanche Per cui potrei fare Anche tutto qua dentro O magari qua faccio la mensa E qua faccio una cucina Un po' Più piccolina Giusto per Per questi detenuti qua Sinceramente potrei Potrei farlo Va bene ragazzi Allora Io direi che posso concludere Qua questo gameplay Dove abbiamo visto La nostra prima esecuzione Ragazzi Mamma mia che emozione Veramente Veramente una grande Una grande emozione Adesso stanno andando alle docce Le stanno già facendo No mi sa che ci stanno andando adesso Ok Sì ci stanno andando adesso Va bene Ok Eh qua ho idea però Che poi dovrò andare a rivedere Sì perché avevano le cose delle docce Però secondo me c'è troppo poco tempo Per fare la doccia Ora che entrano tutti Quindi Quindi ho idea che Io debba fare necessariamente Cioè dargli necessariamente più tempo Poi qua nel regime Perché come doccia secondo me Solo in un'ora Ho paura che non ce la facciano Eh o che la colazione Gliela lascio di un'ora Ma non vorrei che poi mi Mi creano problemi Per il mangiare Proviamo Provo così ragazzi Poi al massimo Aspetto anche i vostri consigli Ovviamente nei commenti Secondo me i bisogni Si alzano molto Perché molto spesso Non fanno in tempo A fare quello che devono E quindi Rimaniamo un po' fregati Qua potrei anche magari Fargli un ingresso in più Per facilitare L'entrata Alla prigione Quindi sinceramente Quello Effettivamente Potrei anche già farlo Così Che cacchio Qua si stanno a mena sempre Oh Questi nei cessi Danneggiato Oh ripara Ok Eh dai e mena Menalo Vabbè Eh tra l'altro Stavo guardando Ma Ah sì no Ok le docce La sicurezza media Ce l'hanno Eh Sì Dunque Qua Dormitorio Doccia Abbiamo due mense Una doccia qua Una doccia qua Ma in teoria Gli dovrebbe bastare Eh Potrei far magari Una porta a prigione grande Allora aspettate Che faccio quest'ultima cosa Perché può essere Anche per il fatto Che non riescono Magari a entrare Quindi gli facciamo Una porta a prigione Qua Andiamo a smantellare Eh Anzi Non lo scarico No Soffione No no Non smantellare niente Smantellami solo Tirati via Soffione doccia Smantella E Soffione Da No Dammi il soffione doccia Soffione Madoncina Soffione Dai Che palle Questi che mi passano davanti Allora Poi magari Gli andrò a mettere Anche una porta automatica Di modo che facciano Anche prima Vai Chiusa Chiusa A fare così Vediamo se ce la fanno E che comunque Le docce Se le fanno Anche nel tempo libero Per cui Non è che dovrebbero avere Enormi problemi Fatto che hanno anche Una porta qua Queste oltretutto Sono pure Automatizzate Qua perché non funziona Questa Ah no Ok Funziona Funziona Sì sì Vedete che si apre a distanza Ok Hola Perfetto Smantella E adesso ovviamente Mi devo mettere altri scarichi Qua E anche qua Gli metterei Così almeno Non si allaghi il tutto Va bene Va bene Non so ne anch'io Magari qua Al posto di questa La smantelliamo E gliene mettiamo Una grande Così Ok Allora Fagliela smantellare Un secondo Proviamo ragazzi Mettagliano una grande Vediamo se Così Riusciamo a Facilitare un po' L'ingresso alle docce Quindi Insomma Farli entrare tutti E fargli fare a tutti La loro bella doccia So che adesso Con questa di qua Non so se Se mi funziona Credo di no Perché è dalla parte opposta Adesso Sta roba qua Quindi sa che mi tocca Smantellarla E gliene devo mettere Un'altra Per forza Per forza Quindi Gliela andiamo a mettere Di qua Ok Non appena la costruiscono La andiamo Ovviamente Ragazzi A collegare Lavoro Tempo libero Vedete Chi non è riuscito Magari prima Andare a far la doccia La fa nel tempo libero E quello Anche va bene Come incarichi Direi che siamo a posto Devo Mi manca queste cose qua Del falegname Ma non ho ancora Al momento falegname Abilitati a fare queste cose Quindi necessariamente Ragazzi Devo Devo aspettare Allora La cosa L'hai montata Ok Quindi andiamo a fare così Andiamo a fare Connetti E la portiamo Dove 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 La portiamo Qua Vai Ok Perfetto Va bene Allora ragazzi Come detto Quindi salviamo Ovviamente La nostra Bella Prigione E Un'ultima Chicca Prima di lasciarci Vi do Una piccola Sorpresina Una Diciamo così Un piccolo Segreto Di Prison Architect A cui secondo me Gli sviluppatori Stanno Lavorando E per questo la tengono Diciamo un po' nascosta Anche se in realtà In molti Lo sanno Ho visto anche Parecchi video di youtuber Appunto americani E l'ho scoperto Grazie a loro Se andate su menu Su extra Vedete che col mouse C'è questo rettangolino Piccolissimo Che è veramente Non ci fa caso nessuno Perché si illumina Solo se Cioè Diventa leggermente Più evidenziato Solo se passiamo sopra Il mouse Se voi ci cliccate Vi faccio vedere Cosa succede Ragazzi Abbiamo Prison Architect In 3D Stanno Lavorando Secondo me Alla versione 3D Di Prison Architect Al momento Ragazzi L'ottimizzazione È ingiocabile Ma anche Senza registrare Veramente È Assolutamente Assolutamente Ingiocabile Aspetta che la riporto Ok Riporto col 2D Che è meglio Però secondo me Appunto I programmatori L'hanno per me Inserita Per appunto Testarla un po' E può essere Che magari Nei prossimi aggiornamenti Si veda anche L'effettivo Inserimento Proprio Magari negli Extra Comunque Nelle opzioni Della grafica Della possibilità Di giocarci Prison Architect In 3D Chi è Cavolo è Che mi ha Scavato Un tunnel Allora Qua c'è Un possibile Tunnel Per cui Poi dovremmo andare A farci una bella Perquisizione E la faremo Comunque ragazzi Detto questo Io direi Che da Prison Architect Ci possiamo salutare Mi raccomando Ragazzi Like Non ve li scordate Perché sono assolutamente Importanti Condividete Soprattutto Commentate Aspetto Ovviamente I vostri consigli Per questo Gameplay è tutto Noi ci salutiamo Ci rivecchiamo A prossimo gameplay Ciao belli Ciao belli